Dopo il tuo primo allenamento con la squadra, quali sono le tue prime impressioni? No, è un buon livello, come la Serie B in Germania, sono tanti buoni giocatori, per il mio primo giorno qui era bello fare l'elemento. Prima di firmare il contratto con il Corona hai guardato qualche partita di extra classe? Prima no, sinceramente no, ma la prima partita qui, l'ultima partita del Corona mi sono vista, era bellissima, è una bella partita, abbiamo vinto 4-2, speriamo che posso giocare anch'io lì. L'anno scorso hai segnato cinque reti i tifosi del Corona, possiamo stare tranquilli che nel campionato polacco farai di più? Sì, speriamo, io voglio segnare ogni partita, devo allenare ogni giorno tanto e spero che faccia tanti gol per il Corona. Hai già parlato con l'allenatore, per te è importante che Gino Lettieri sia un italiano? Sì, anche, ho giocato contro gli allenatori in Germania già, è buono per me che sa parlare italiano, anche tedeschi, stanno 4-5 giocatori che parlano anche tedesco, è buono per me. È difficile per te che il campionato ha iniziato? No, penso che io qui trovo subito, come dire, subito dentro la squadra e ogni giorno per giorno devi guardare e fare tutto per giocare subito. Dopo il trasferimento IG ha parlato con il tuo fratello Roberto, forse in futuro verrà qua a Chielce per vedere una tua partita? Sì, già ho parlato, facciamo ogni giorno FaceTime, ha detto una bella cosa e speriamo che quando è libero mi vieni a trovare. Grazie a tutti.